E adesso a Messina dove il sindaco De Luca ha provveduto con la sua ordinanza a chiudere le scuole di ogni ordine e grado che resteranno chiuse nel capoluogo nella città dello Stretto ma resteranno le scuole chiuse anche in altri dieci comuni della zona ionica. Il servizio è di Francesco Triolo. Messina chiude la zona rossa sullo Stretto, lo è ancora di più rispetto a quella istituita in tutta la Sicilia. L'ordinanza restrittiva annunciata da De Luca sarà firmata nella giornata di oggi ed il sindaco ne ha già diffuso alcune parti. La prossima settimana dal 18 al 24 gennaio sarà tutto chiuso tranne generi alimentari, farmacie, edicole, tabacchi, servizi ed uffici pubblici e privati qualificati di pubblica utilità. La settimana successiva dal 25 al 31 gennaio previste aperture graduali e limitate tranne la totale apertura per generi alimentari, farmacie, edicole, tabacchi, servizi ed uffici pubblici e privati qualificati di pubblica utilità. Le scuole invece riapriranno dall'1 febbraio se l'andamento epidemiologico sarà rientrato negli standard medi nazionali. Una decisione questa non solo del capoluogo, dove peraltro sarebbero rimaste già chiuse in base all'ordinanza regionale che ha disposto la zona rossa per la città dello stretto, ma l'aumento dei contagi ha fatto salire al massimo l'attenzione di diversi sindaci, soprattutto nella zona ionica messinese, in attesa che partano gli screening sulla popolazione scolastica. Quindi hanno deciso di tenere chiusi gli istituti scolastici nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, i sindaci di 10 comuni, Santa Teresa di Riva, Savoga, Furcisiculo, Roccalumera, Nizza di Sicilia, Fiume di Nisi, Alitterme, Ali, Itala e Scaletta, dove si tornerà anche qui in classe solo l'1 febbraio.